Questo video riguarda i migliori tre cannocchiali più affidabili. Il vincitore della qualità è l'Endav cannocchiale. Ingrandimento variabile da 20X a 60X e obiettivo da 80 mm. Obiettivo dinamico e ottiche completamente multirivestimento offrono luminosità e chiarezza sorprendenti per una visione ottimale. Il Prisma Back 4 trasmette immagini ricche di contrasto brillanti in tutta la gamma di zoom. Struttura impermeabile antiurto-antiappannamento, ideale per tutte le condizioni atmosferiche, design sigillato durevole, struttura solida e armatura in gomma. Viene fornito con un adattatore universale per smartphone e treppiede per tablet in metallo. D. Ideale per sparare, caccia, birdwatching, campeggio, viaggi, escursioni, avvistamento alla gamma target o altre attività all'aperto. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il SV Boni SV45. Con una gamma di ingrandimento da 10X a 30X, puoi vedere obiettivi più interessanti nel mondo delle distanze, e ottiene un'immagine chiara e luminosa con un obiettivo di 50 mm di larghezza. La custodia resistente offre una protezione esterna antiscivolo sicura. Design antiscivolo a grana concava progettato per l'utilizzo con una sola mano, il prisma completamente rivestito multi rivestito e BAC 4 offrono una trasmissione della luce superiore e immagini nitide anche a grandi distanze. La trasmissione della luce arriva fino al 99,5%, sigillato con o anello per prevenire l'umidità polvere e detriti nel cannocchiale. L'azoto riempito fa sì che il monoculare mantenga lontano l'influenza della nebbia. Oculari regolabili e sollievo per gli occhi lunghi di 16-16,5 mm che gli indossatori di occhiali possono anche ottenere il campo visivo senza vignettatura. Tati di trattamento. Il vincitore del premio è la Usea Binocolo. Dotato della più recente tecnologia di binocoli. Il binocolo professionale 12x50 ad alte prestazioni con prisma sovradimensionato e lenti di alta qualità offre un campo visivo ampio e molto chiaro, effetti visivi eccellenti e una facile scoperta della bellezza della natura. Design grandangolare e obiettivo di alta qualità, anche a una distanza di 1000 metri, puoi sperimentare un mondo estremamente chiaro in un ampio campo visivo. Facile da trasportare, i binocolo bambini sono dotati di tracolla portatile e borsa. Puoi appenderlo al collo quando sei occupato. Adatto per escursioni, osservazione della fauna selvatica e paesaggi. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.